Ragazzi buongiorno a tutti anzitutto, è un piacere avervi sempre numerosi come sempre qui all'ultima battuta che facciamo qui alle Forane. Siamo quasi pronti, ormai tra poco sciolgo i cani, cominciamo a preparare le armi. Attenti che è partito eh, è partito eh, attenti che è partito gente, attenti posti.